Buongiorno Don Curzio, buongiorno a tutti, siamo giunti alla settima puntata del Catechismo di San Pio X. Siamo giunti allora al punto della comunione dei Santi, al punto 215. Che cosa ci insegna il nono articolo del Credo con quelle parole la comunione dei Santi? Con le parole la comunione dei Santi il nono articolo del Credo ci insegna che nella Chiesa, per l'intima unione che esiste tra tutti i suoi membri, sono comuni i beni spirituali, così interni come esterni, che le appartengono. Al 216. Quali sono nella Chiesa i beni comuni interni? I beni comuni interni nella Chiesa sono la grazia che si riceve nei sacramenti, la fede, la speranza, la carità, i meriti infiniti di Gesù Cristo, i meriti sovrabbondanti della Vergine e dei Santi, e il frutto di tutte quelle opere buone che in essa la Chiesa si fanno. Poi al 217. Quali sono i beni esterni comuni nella Chiesa? I beni esterni comuni nella Chiesa sono i sacramenti, il sacrificio della Santa Messa, le pubbliche preghiere, le funzioni religiose e tutte le altre pratiche esteriori che uniscono insieme i fedeli. In questa comunione di beni entrano tutti i figli della Chiesa, al 218. Nella comunione dei beni interni entrano i cristiani, i quali sono in grazia di Dio. Quelli che poi sono in peccato mortale non partecipano di questi beni. Direi che possiamo sviscerare questi quattro punti, Don Curzio, giusto? Sì. Perché poi mi sembrano abbastanza ricchi. Allora, partendo dal 215. Sì. Cosa ci insegna questo, in un articolo del Credo, con quelle parole della comunione dei Santi? I cristiani formano il corpo mistico di Gesù Cristo, la Chiesa è il corpo mistico di Gesù. Gesù è il capo, noi siamo le membra. La Madonna è il collo attraverso il quale la grazia dal capo arriva sino alle membra. Quindi la Madonna è mediatrice di ogni grazia, è il canale. San Bernardo di Chiaravalle scrisse il famoso sermone, Sermo de Acquedutto, il sermone sull'acquedutto. Questo acquedotto che conduce le acque dalla fonte sino a noi è la Madonna. Per cui possiamo e dobbiamo venerare, adorare Gesù Cristo che è Dio, essere uniti al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, ma se tagliamo l'acquedotto che ci unisce a Dio, alla fonte, Dio è la fonte principale, la Madonna è corredentrice secondaria, dispensatrice di ogni grazia, mediatrice universale di ogni grazia. Ecco, è come se io tagliassi i tubi che portano l'acqua dall'acquedotto a casa mia. Naturalmente l'acquedotto è pieno, il mio rubinetto è funzionante, ma avendo tagliato i tubi dell'acquedotto l'acqua non arriva sino a me. Ecco quindi l'importanza della devozione alla Madonna. Qui in questo quinto paragrafo del credo, credo nella comunione dei Santi, cerchiamo di approfondire quello che ci dice la fede, credo nella comunione dei Santi. Stiamo in comunione con Gesù come nostro capo, come il mio dito è in comunione con la mano, la mano col braccio, il braccio col collo e con la testa, così noi cristiani siamo tutti in comunione. Nella Chiesa poi ci sono, essendo una società gerarchica, coloro che comandano il Papa e i Vescovi, coloro che obbediscono, che sono insegnati e sono i fedeli i sacerdoti, i quali debbono ricevere l'insegnamento e le leggi dal proprio Vescovo della propria diocesi e dal Papa che è il Vescovo dei Vescovi. C'è una comunione dei Santi, tutti i Santi, tutti i Cristiani che vivono in grazia di Dio, poi vedremo i beni interni, i beni esterni, la differenza che c'è tra il cristiano battezzato che vive in peccato mortale, è un membro del corpo mistico, ma è un membro morto, non è vivificato dall'acqua della grazia e il membro vivo. Nella Chiesa c'è quindi questa comunione di beni spirituali, perché è un corpo mistico, è un corpo che ci dà soprattutto beni spirituali. Questi beni spirituali sono interni ed esterni. Quelli interni, al numero 216, sono la grazia santificante. Abbiamo visto? La grazia è la partecipazione alla vita divina. Dio, la sua vita, ce la fa partecipare, se stiamo in grazia di Dio, ma noi la riceviamo in maniera limitata, finita, creata. Non siamo come Dio, quindi non è panteismo. Questa comunione dei santi evita il rischio di ogni panteismo, i falsi mistici che hanno cercato di confondere la grazia con l'identità dell'uomo con Dio. Invece no, Dio è personale, trascendente, lui è il creatore, noi siamo le creature, e quando ci dà la grazia, noi abbiamo una parte reale, senz'altro, fisica di questa vita divina, ma l'abbiamo in maniera limitata e finita. Quindi rimaniamo sempre distinti da Dio e infinitamente inferiori a Dio. Dio è il creatore, noi le creature. Allora, questi beni comuni che noi riceviamo sono interni e esterni. Quelli interni sono la grazia, la grazia santificante che Dio ci dà. Dio la dà a tutti, ma non tutti la accettano. Dio vuole che tutti si salvino. Ha creato tutti gli uomini perché possano andare in paradiso. Come mai molti uomini non si salvano, non per colpa di Dio, perché Dio vuole la salvezza di tutti. Non si salvano perché non vogliono cooperare con la grazia di Dio, non vogliono credere, o se credono non vogliono mettere in pratica i dieci comandamenti. Allora, ecco che la grazia Dio la offre a tutti, ma non tutti la accettano. Non hanno la fede, rifiutano la fede, e senza la fede è impossibile piacere a Dio. Per cui se io non ho la fede che Dio ha rivelato e che la Chiesa mi propone a credere, se la rifiuto, non per ignoranza, l'ignorante che vive nelle foreste e che non ha mai sentito parlare dell'Immacolata Concessione, se non crede all'Immacolata Concessione, non è che sia un eretico, non è che faccia peccato. Se invece io, il quale ho studiato il catechismo, ho sentito parlare della Madonna e dell'Immacolata Concessione Maria, rifiuto in maniera ostinata questa verità di fede, commetto un peccato mortale contro la fede e rinnego un dogma. Quindi sono formalmente eretico. L'eretico materiale è colui che nega un dogma senza sapere che sia un dogma, per ignoranza. Quando però mi facessero notare che io ho negato un dogma, per esempio l'assunzione di Maria in anima e corpo in paradiso, è un dogma di fede. Io non lo so per ignoranza, dico la Madonna, no, non è stata assunta in anima e in corpo, ho negato un dogma. Sono eretico, ho detto un'eresia, ma eretico materiale. L'eretico formale è colui che gli viene detto guarda, questa verità che tu hai negato è un dogma. Allora, se tu perseveri in maniera ostinata nella negazione di questo dogma, diventi eretico formale. Questa è l'eresia formale. Questa è molto importante, perché oggi, con questa crisi modernista e imperante, molti parlano facilmente di eresia, ma non fanno l'estinzione tra l'eresia materiale e l'eresia formale. Allora, non ogni trafalcione professato è un'eresia formale. Può essere detta per ignoranza, anche un'ignoranza, magari colpire un sacerdote, dovrebbe conoscere la teologia. Quindi se dal pulpito dice uno strafalcione quella è un'eresia materiale. Poi, se gli si fa notare, guardi che questo qui è quello che la Chiesa insegna, che insegna il catechismo, e lui persevera, allora è eretico formale. Però chi gli fa il processo giuridico è l'autorità superiore, il vescovo. E al vescovo gliela può fare solo il Papa. Il Papa non ha un superiore umano. Il superiore del Papa è soltanto Gesù Cristo che sta in paradiso. Allora, ecco che la questione dell'eresia formale del Papa è una questione molto complicata, molto dibattuta. Per i fedeli è facile, perché il sacerdote glielo fa notare, poi il vescovo lo giudica, perché il sacerdote di per sé non ha giurisdizione per queste questioni. è il vescovo della sua diocese che ha questo potere giuridico per fargli notare e quindi notificargli la sua eresia. Al vescovo gliela fa notare e gliela notifica il Papa. Allora, ecco che questi beni comuni interni nella Chiesa, sono la grazia santificante, abbiamo visto quello che è. la fede, la speranza e la carità sono le tre virtù teologali. Perché teologali? Perché sono quelle virtù che hanno come oggetto diretto teos Dio. Io credo in Dio, spero in Dio, amo Dio. le quattro virtù cardinali morali le virtù morali sono molte, ce ne sono quattro cardinali, sono come i cardini di una forza. Su queste quattro virtù, come su cardini, girano tutte le altre virtù morali. Crudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Non sono teologali, perché? Perché non hanno come oggetto diretto Dio. La fortezza è quella virtù che mi dà il coraggio per sormontare gli ostacoli, questo è l'oggetto diretto della fortezza, i quali mi impedirebbero di arrivare a Dio. Quindi Dio è l'oggetto indiretto. Così la temperanza, la giustizia e la prudenza. Ora, fede, speranza, carità, grazia santificante, i meriti infiniti di Gesù Cristo che ci sono concessi tramite l'inscrizione della Madonna Santissima, ebbene, questi sono i beni comuni interni. Questi beni comuni interni noi li riceviamo attraverso due canali. Il principale sono i sacramenti, quello secondario, ma non disprezzabile, non povero, non piccolo, è la preghiera. Per ottenere la grazia e l'aumento della grazia, perché se ho questa grazia la devo mantenere in me, la devo aumentare come se avessi un capitale, lo metto non in banca, se no diminuisce sempre di più, lo metto in me, sicuro e cerco di farlo aumentare. Così è per la grazia santificante. Se la perdo col peccato mortale, ecco che io perdo la grazia tutti i meriti che avevo acquistato. Poi ci sono beni esterni nella Chiesa, anche con la comunione dei Santi noi partecipiamo a questi beni esterni, che sono il sacrificio della Messa, i sacramenti, le preghiere pubbliche, le funzioni. Io partecipo, essendo membro della Chiesa, anche a questi beni esterni. Nella comunione dei beni, interni ed esterni, entrano tutti i figli della Chiesa, Sì, tutti i cristiani, però si fa la distensione. Per quanto riguarda i beni interni, entrano i cristiani battitati che sono in grazia di Dio. Se io non ho la grazia di Dio, ecco che perdo i beni interni, perdo la grazia. E quindi non ricevo più l'acqua della grazia, sono un ramo dell'albero, ma un ramo secco, un ramo morto. Come c'è un albero che ha tanti bei rami, tante foglie, tanti fiori, però un ramo si è seccato. Quel ramo fa parte di quella pianta, sì, certamente, ma è un ramo morto. Ecco allora colui che vive nel peccato mortale. Se uno avesse la disgrazia di commettere un peccato mortale, ha l'obbligo di confessarsi il più presto possibile, e in attesa un atto di dolore perfetto gli riotiene la grazia. Che cos'è l'atto di dolore perfetto? L'atto di dolore imperfetto è mi pento del peccato perché con esso ho meritato l'inferno. Invece il dolore perfetto, mi pento del peccato perché con esso ho offeso un Dio infinitamente buono. È come se avessi dato uno schiaffo a Gesù, come se gli avessi messo la corona di spine. Allora, l'atto di dolore perfetto, dolore del mio peccato per aver offeso un Dio infinitamente buono, col desiderio di confessarmi il più presto possibile, già mi ridanno la grazia santificante. Quindi se dovessi morire in quel momento, non morirei né il peccato mortale, non mi dannerei l'anima. Però c'è questo obbligo di andare a confessarsi, sottomettere il peccato al potere della chiave, perché Gesù ha detto così, ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonete non saranno perdonati. Quindi ecco comunione dei beni interni, coloro che stanno in grazia di Dio. Sono rami vivi. Il ramo secco non riceve più la linfa. Questa linfa parte dalle radici, sale su nel tronco, poi vivifica tutti i rami e quindi il ramo è pieno di foglie. Il ramo secco non riceve la linfa, quindi non ha foglie, è secco. Quelli che sono nel peccato mortale non partecipano di questi beni interni. Quindi ecco l'importanza della grazia santificante. La fede senza le opere è morta. Non è vero che basta credere in Gesù e poi i comandamenti diventano non più necessari, come ha detto purtroppo Bergoglio. e questa era l'eresia di Lutero. Farebbe comodo, basta che io credo, come facevano i farisei. Farebbe comodo, io credo, poi uccido, rubo, faccio tutto quello che non andrebbe fatto e mi salvo lo stesso. No, non sto in regola con Dio, sono un fariseo. Numero 219. Perché non partecipano di questi beni interni coloro che sono in peccato mortale? Non è un arbitrio, non è un'invenzione dei preti, perché la grazia di Dio è quella che unisce i fedeli con Dio e tra di loro. Perché noi siamo uniti tra di loro? Perché siamo uniti a Dio? Perché stiamo in comunione nel corpo mistico con il capo Gesù e tra di noi che siamo le membra? Perché abbiamo la vita della grazia. Come le radici, il tronco, i rami, le foglie, i fiori dell'albero sono in comunione tra di loro perché ricevono tutte l'acqua, la linfa vitale. Il ramo morto non sta in comunione perché sì, fa parte di quell'albero materialmente, ma non è vivificato dalla grazia. Perciò, coloro che sono in peccato mortale, essendo senza la grazia di Dio, sono esclusi dalla comunione dei beni spirituali. Quindi fanno parte della Chiesa, non sono stati tagliati, non è il ramo tagliato e buttato fuori, è un ramo facente parte dell'albero, ma è un ramo secco. Vedete la bellezza del catechismo. Il catechismo è esattissimo, semplicissimo, profondissimo. Nel catechismo ogni frasetta racchiude un trattato di teologia. Qui si vede la vera abilità di San Pio X di spiegare nella maniera più semplice le cose più alte e più difficili. per farsi capire bisogna capire quello che uno ha studiato. Il fanfarrone che parla come runner e non si fa capire, uno lo sente e poi dice ma questo qui che ha detto io non l'ho capito. E beh, gli altri fanno finta di averlo capito, ma se uno gli va a dire scusa tanto mi spieghi un po' io non l'ho capito in poche parole, spiegami un po' quello che ha detto. Ah, ma nessuno lo sa. Il catechismo invece è chiarissimo. Quando uno legge una frase e capisce quello che vuol dire esattamente. Mi scusi, ma su questo mi viene da ridere perché mi viene in mente un parallelo anche con quella che è tutta l'arte moderna se lei c'ha presente. Quando ci sono e dice ma questo bisogna capirlo. Cioè, proprio il messaggio criptico che è tipico del proprio che è contrario al principio di una contraddizione come il catechismo. E la stessa cosa poi è trasformata nell'arte mondana. Bisogna entrarci dentro per capire. Cioè, solo per gli iniziati. Mi sembra che in un museo non so se fosse il Louvre c'era una mostra di Picasso e un inserbiente aveva lasciato la scala. Allora, tutti i critici avevano la bellezza di questa scala in mezzo a uno scarabocchio perché Picasso ha fatto dei quadri molto belli però poi ci si è divertito a prendere in giro. Allora, tutti a magnificare la grandezza, la bellezza, il significato recondito di questa scala. Poi arrivò l'inseppente che scusate tanto non aveva seguito il discorso. Il trombone di turno ho lasciato la scala qui, la presa e se la porto via. E questo, come uno fa sentire runner, questi qui, Kung, eccetera, sono parole di libertà. Allora, il catechismo invece è chiaro. Perché non parteci, no? Perché la grazia di Dio è quella cosa che unisce fedeli con Dio e tra di loro. Ecco la comunione. Il sangue è quello che vivifica le dita dei piedi, della mano, il corpo, il cuore, il cervello. Se scoppia un'arteria io muoio perché secco, perché non c'è più il sangue che vivifica dal dito sino al cervello. È qualche cosa che capiscono tutti anche i bambini. E Don Bosco quando faceva le prediche le faceva. Poi andava da mamma Margherita che era una donna molto semplice e non aveva studiato. Ripeteva la predica. Però diceva la madre tu quando non capisci qualche cosa fermami. Io non ho capito. Qualche volta alzava la mano non ho capito e lui rivedeva la frase la limava fino a che non l'avesse capita anche la mamma. ma soltanto allora la predica era pronta. Perché se non capisce mia madre c'è qualcuno che non capisce il significato della predica. Allora mia predica deve essere concisa breve, esatta, profonda ma accessibile a tutti. Se io faccio una predica tutti mi dicono bravo, bella, però pochi la capiscono o quasi nessuno molti fanno finta di capirla non è servita a nulla. Così è il catechismo. anche una persona che non ha studiato che non ha neanche letto una volta i parroci spiegavano il catechismo e anche gli analfabeti capivano qual era la fede. Adesso al catechismo fanno due o tre anni di preparazione alla comunione però non insegnano più la trinità. Che cos'è la trinità? La divinità di Gesù Cristo. Se Gesù è Dio, si è uomo. Che cos'è una persona? Che cos'è una natura? Non insegnano più nulla. Invece il catechismo di San Pio X spiega tutte queste cose che presuppongono delle nozioni filosofiche e teologiche molto precise e molto esatte alla quale ci si è arrivati dopo la rivelazione della tradizione l'insegnamento del Padre della Chiesa soprattutto con la perfezione della scolastica di San Tommaso d'Alquino il quale ha riunito in sé il deposito rivelato la scrittura e la tradizione la spiegazione dei Padre della Chiesa e lì ha tolto quelle che potessero essere qualche imprecisioni che i Padre della Chiesa data l'età e ancora non avevano ben definito la portata il significato esatto della fede San Tommaso è arrivato alla perfezione della teologia cattolica e il catechismo mette in forma di domanda e risposta molto semplice la grandezza della somma teologica noi possiamo dire che il catechismo è il compendio della somma teologica di San Tommaso d'Alquino quindi quelli che sono in peccato mortale mi scoppia l'arteria essendo senza la grazia di Dio rimango senza sangue mi dissanguo sono esclusi dalla comunione dei beni spirituali io non ho più il sangue nelle vene il sangue se ne è andato tutto quanto sono morto oramai mi portano al cimitero 220 i cristiani che sono in peccato mortale forse questa non l'avevi ancora letta la 220 no non l'avevo letta no 220 dunque i cristiani che sono in peccato mortale non hanno alcun vantaggio dai beni interni e spirituali della chiesa i cristiani che sono in peccato mortale non hanno ancora qualche vantaggio dei beni interni e spirituali della chiesa dei quali sono primi in quanto essi conservano il carattere del cristiano che è indelebile e sono aiutati dalle orazioni e dalle buone opere dei fedeli ed opere ad ottenere la grazia di convertirsi a Dio allora scusa hanno ancora qualche vantaggio non li hanno tutti ma qualche piccolo vantaggio ce lo hanno ancora esatto dice che ci hanno e quelli che sono in peccato mortale possono partecipare dei beni esterni della chiesa quelli che sono in peccato mortale possono partecipare dei beni esterni della chiesa seppure non siano separati dalla chiesa con la scomunica questo ne avevo un po' accennato precedentemente e nel 222 perché i membri di questa comunione presi insieme si chiamano santi i membri di questa comunione si chiamano santi perché tutti sono chiamati alla santità e furono santificati per mezzo del battesimo e molti di essi sono già pervenuti alla perfetta santità allora qui io direi che possiamo dare una spiegazione già su questo perché è importantissimo poi proseguiamo anche con magari citiamo anche il successivo che è conseguente 223 la comunione dei santi si estende e la anche al cielo e al purgatorio sì la comunione dei santi si estende anche al cielo e al purgatorio perché la carità unisce le tre chiese trionfante purgante e militante e i santi pregano il Dio per noi e per le anime del purgatorio e noi diamo onore e gloria ai santi e possiamo sollevare le anime del purgatorio applicando in loro suffraggio e le mosine indulgenze e altre opere buone direi che possiamo dare a questo una spiegazione a questi punti qui allora 220 un cristiano ha la fede però vive in peccato mortale tuttavia pur non avendo la grazia non avendo i beni interni e spirituali ha ancora qualche vantaggio che gli viene da questi beni interni ad esempio un ramo gravemente ammalato ma che non è ancora totalmente seccato un dito che è gravemente ammalato ma la cancrena non lo ha reso completamente putrido allora hanno ancora qualche vantaggio dai beni interni spirituali della chiesa in quanto conservano il carattere di cristiano sono stati battezzati e questo carattere che si è ricevuto nel battesimo è qualche cosa di indelebile non può essere cancellato posso andare al registro della parrocchia e dire di togliere il mio nome oggi è una moda però il carattere quello è indelebile e nessuno me lo toglie poi sono aiutati dalle orazioni dalle opere buone dei fedeli e quindi possono ottenere la grazia di convertirsi allora ecco il vantaggio la bellezza di essere cristiani di essere stati battezzati perché nonostante che una persona viva malamente ecco che le preghiere di tutto il corpo della chiesa lo tengono la disposizione a convertirsi a pentirsi dei suoi peccati a chiedere perdono a Dio e a ritrovare la grazia santificante quindi al 221 coloro che sono in peccato mortale possono partecipare dei beni esterni dei beni esterni della chiesa purché non siano separate dalla chiesa quella scomunica e la scomunica è un atto molto grave che mi separa completamente non solo non solo non ho più i beni interni ma non ho neanche il vantaggio dei beni esterni per cui i santi pregano la chiesa prega ma non ricevo più nulla sono un ramo secco che è stato tagliato e buttato lontano dall'albero mi scusi Don Curzio mi scusi su questo una domanda vorrei farle mi viene una domanda ma siccome ci sono stati tanti casi c'era la scomunica per chi era iscritto per esempio al pc e poi si è convertito ma non lo sapeva non sapeva di questa cosa si è confessato però poi non ha avuto magari ha frecundato sempre la chiesa ma non avendo avuto diciamo avendo avuto questa scomunica in modo inconsapevole non ha fatto parte dei beni nel ora nel decreto di condanna del comunismo ateo e materialista e quindi nella scomunica il papa specificò lui e poi tramite il santo ufficio nel 49 questa riguarda il comunista militante o a dire colui che conosce la dottrina marxista perché noi condanniamo il comunismo non è una questione partitica di elezioni il comunismo in quanto ateo e materialista nega l'esistenza di Dio nega l'esistenza dell'anima è un'apostasia si passa da una religione dal cristianesimo che crede in Dio nell'immortalità dell'anima a una religione totalmente diversa non è un'eresia il protestante nega la chiesa e i sacramenti il musulmano l'ebreo negano Gesù Cristo la trinità quindi l'islam e il giudaismo sono apostasie un cristiano che si fa musulmano o ebreo è un'apostata se invece uno diventa protestante o ortodosso c'è l'eresia e c'è lo scisma in questo caso qui ecco che la scomunica riguarda soltanto colui che conosce la dottrina marxista vi aderisce e quindi nega l'esistenza di Dio è ateo militante dottrinario sa bene dar le prove secondo lui della non esistenza di Dio e della non immortalità dell'anima gli altri che sono comunisti erano comunisti per ignoranza per desiderio di pace sociale perché messi su dalla propaganda questi non cadevano sotto la scomunica perché non erano filosoficamente dottrinalmente marxisti come per esempio Santa Giovanna d'Arco fu scomunicata l'8 maggio noi la festeggeremo domenica festeggiamo anche la Madonna di Pompei fu scomunicata dal vescovo del luogo la scomunica era ingiusta perché il vescovo era stato unto corrotto dal re d'Inghilterra e quindi fece bruciare fece inquisire fece bruciare Santa Giovanna d'Arco dopo avere la scomunica quella scomunica fu combinata dal vescovo ma non era giusta di fronte a Dio non aveva nessun valore certe volte ci sono abusi di potere quando Paolo VI ha sospeso a divinis Monsignor Lefebvre perché perché gli aveva ingiunto di non celebrare la messa di rito apostolico allora ecco questo non è un ordine ma non è legge ma è corruzione della legge è un ordine illecito al quale non si deve obbedire come quando il padre dice al figlio va a rubare uccidi vendicami o la madre che manda le figlie a prostituirsi così riporti i soldi in casa in quel caso lì i figli non debbono ottemperare al quarto comandamento perché altrimenti violerebbero il primo io sono il Signore Dio tuo non avrai altro Dio all'infuori di me quindi questa mi sembra una questione molto semplice ora quelli che sono in peccato mortale quindi non possono possono partecipare ai beni esterni non partecipano più a quelli interni ma possono partecipare ai beni esterni ricevono i benefici delle preghiere delle messe che vengono celebrate quindi possono essere aiutati a convertirsi invece se uno è stato tagliato e buttato fuori un ramo secco che oramai è talmente secco che viene tagliato fuori come quando Gesù passa davanti al fico vede che non porta frutti e dice tu possa seccare e poi dice tagliatelo e buttatelo nel fuoco ebbene perché 222 i membri di questa comunione i cristiani presi assieme si chiamano santi allora si chiamano santi perché tutti sono chiamati alla santità questa è la volontà di Dio la vostra santificazione Dio chiama tutti alla santità la santità non è per poche anime elette che hanno dei carismi che si sentono illuminati no ogni cristiano battezzato ogni uomo è chiamato Dio alla perfezione e alla santità non ha scoperto nulla e scrivete Balaguer dicendo anche i laici sono chiamati alla santità sta scritto nel Vangelo sta scritto nell'Antico Testamento il Catechismo di San Piovesimo lo spiega benissimo allora sono santi perché sono chiamati alla santità quindi sono santi in potenza non in atto anche se io non sono santo però Dio vuole la mia santità ma potenzialmente virtualmente io sono santo chiamato alla santità furono santificati per mezzo del battesimo quando sono nato sono stato battezzato e il battesimo ha cancellato in me il peccato originale e ha infuso la presenza del Padre del Figlio dello Spirito Santo la grazia santificante quindi il bambino battezzato è realmente in atto santo molti invece sono già pervenuti alla perfetta santità quindi sono dei cristiani che hanno vissuto una vita cristiana molto intensa hanno pregato hanno fatto sacrifici penitenze e sono morti in grazia di Dio e stanno in cielo o ancora non sono morti però vivono questa vita per esempio pensiamo ai monaci in Algeria che non vogliono lasciare l'Algeria furono sgozzati dai musulmani nel 1990 grosso modo e questi sono vissuti perché hanno potevano tornare in Francia sia il ministero degli interni algerino sia il vescovo ha detto se potete se volete potete tornare lui ha detto no noi siamo stati mandati qui vogliamo rimanere a fare i pastori sino alla fine e quindi gli hanno tagliato la volei che è davvero eroico allora è gente che è vissuta ed è morta in grazia di Dio con una notevole santità o si pensi a padre Pupiesco fu preso dagli agenti del KGB e lì gli spaccarono tutte le ossa dal primo fino all'ultimo senza rompergli l'osso del collo poi lo presero dalla famosa mazziatura che facevano già nei tempi passati una tortura che fa porta alla morte lo chiusero nel portabagagli dell'auto dall'autopsia si vede è una cosa che fa paura e poi ancora vivo lo incaprettarono lo guardarono a una corda e lo buttarono nell'avistola naturalmente era fredda agghiacciata poi morì affogato ma dall'autopsia si vedono le mani dalla faccia ogni osso che è stato spaccato e quindi è stato vissuto in santità perfetta la comunione dei santi si estende anche al cielo del purgatorio certo abbiamo visto l'altra volta che ci sono la chiesa purgante militante trionfante purgante sono le anime sante del purgatorio già sono santi e questa è la bellezza la gioia del purgatorio sono anime sante non stanno ancora in paradiso debbono purgare la pena dovuta alla colpa però sono morte in grazia di Dio quindi sono morte nella santità santità non totalmente perfetta non purificata da ogni debito di pena e siccome davanti a Dio neanche gli angeli sono furi queste anime anche santi passano qualche tempo dopo la loro morte in purgatorio bisogna pregare per loro ricordarsi di loro nelle nostre preghiere far celebrare delle messe assistere alla messa al momento dei morti si pensa a loro offrire rosario le penitenze per queste anime poi le anime furganti non possono meritare per sé ma possono meritare per noi quindi pregano per noi e per la comunità dei santi mio padre mio nonno mia nonna che stanno in purgatorio e vedono quello che io sto facendo le difficoltà a cui vado incontro e pregano per me e io devo pregare per loro perché da sé non possono uscire dal purgatorio sono anime tante ma nel purgatorio si soffre c'è lo stesso fuoco dell'inferno soltanto che non è eterno quindi devo fare in modo che escano loro però possono pregare per me e quindi la devozione alle anime furganti è un segno di predestinazione perché hai salvato un'anima animam salvasti diceva Sant'Agostino animam tuam predestinasti hai salvato un'anima l'hai fatto uscire dal purgatorio hai predestinato hai assicurato la salvezza della tua anima questa è la chiesa purgante poi noi facciamo parola la chiesa militante oggi si rifiuta questo concetto di lotta ma la chiesa è militante già nell'antico testamento Giobbe milizia este vita omini superterram la vita dell'uomo sulla terra è una milizia è una guerra una battaglia continua contro chi? contro noi stessi le cattive tendenze le tre concupiscenze contro i mondani coloro che vorrebbero farci rinnegare il Vangelo farci vivere malamente e contro il demonio che cerca di spingerci al male poi c'è la chiesa trionfante che trionfa i santi che già sono entrati in paradiso e trionfano con Gesù Cristo questi santi noi li preghiamo non hanno bisogno delle nostre preghiere però pregandoli diamo gloria a loro e loro pregano per noi e ci ottengono dal Signore e dalla Madonna Santissima tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per cui le anime del paradiso pregano per noi chiesa militante e pregano anche per la chiesa burgante per le anime bisognose del purgatorio per esempio se mio bisnonno sta in paradiso e mio nonno sta ancora in purgatorio ecco che il bisnonno prega non solo per me che so su questa terra ma prega anche per il mio nonno affinché possa uscire il più presto possibile dal purgatorio allora abbiamo finito il paragrafo prima di passare al coloro che sono fuori dalla chiesa al capitolo di coloro c'ho una domanda ad un'omelia ho sentito questa affermazione più o meno prima di Cristo gli uomini vivevano come gli animali nascevano crescevano e con la morte era tutto finito con Cristo è arrivato il dono della vita eterna a chi accoglie la grazia della detenzione ottenuta con la sua morte e resurrezione beh non è esatto perché nell'Antico Testamento era tutto relativo a Gesù Cristo i santi dell'Antico Testamento Abramo Isacco Giacobbe Mosè sono grandissimi santi patriarchi che credevano nel Messia Venturo credevano in Dio nell'immortalità dell'anima pregavano sono vissuti in grazia di Dio se uno legge la storia di Abramo è commovente si vede la grande santità di questo patriarca superiore a tanti uomini e anche santi del Nuovo Testamento i pagani per salvarsi se non stanno in cattiva fede non negano le verità per cattiveria e malizia possono salvarsi purché credano due cose nell'esistenza di Dio quindi il mondo è stato creato da Dio non si è fatto da sé e questo Dio personale trascendente premia i buoni e castiga i cattivi perché un Dio infinitamente saggio non può premiare i cattivi e castigare i buoni o premiare buoni e cattivi no Dio è giusto quindi colui che ha voluto essere malvagio fino alla fine Dio lo castiga colui che ha cercato di essere tra virgolette buono su questa terra la nostra bontà è sempre relativa limitata e Dio questo lo ricompensa come il maestro giusto e lo scolaro che non ha voluto impegnarsi alla fine dell'anno dice figlio mio non ti posso promuovere se ti promuovessi sarei ingiusto invece quello che si è sfruttato oggi non è così non è così ma non è tutto perché il maestro fa passare anche colui che non si è sforzato può venire incontro a colui che non è molto intelligente ma ha avuto la buona volontà ce l'ha messa tutta allora lo aiuta un po' per la misericordia sì quella è vera misericordia ma far misericordia a chi ha rifiutato la misericordia a chi essendo intelligente non ha voluto impegnarsi non ha voluto studiare no questa è ingiustizia allora credere in Dio che premia buoni castigli creativi e cercare di osservare la legge naturale quindi cercare di vivere bene ognuno di noi ha iscritta nella sua anima anche il pagano i romani che non conoscevano ancora Gesù Cristo i greci per esempio coloro che stavano nelle altre parti del mondo gli aborigeni ed ecco loro avevano l'idea di un Dio creatore che premia buoni castigli creativi e poi dovevano sforzarsi di vivere correttamente dare onore a Dio i primi tre comandamenti non bestemmiarlo e onorarlo un giorno di festa e poi aver rispetto per i genitori non uccidere non fornicare non tradire la moglie non rubare la roba degli altri questo ogni uomo ce l'ha iscritto nel proprio cuore se uno ruba uccide tradisce la moglie o bestemmia Dio o nega l'esistenza di Dio e coche viola i comandamenti e beh costui non non può salvarsi allora i pagani potevano salvarsi purché credessero in Dio e poi cercassero di mettersi in regola perché se io ci credo e poi faccio il contrario lo bestemmi uccido rubo no devo cercare di osservare i comandi e il pagano riceveva da Dio la luce per credere e la forza per mettere in pratica i dieci comandamenti la legge naturale che ognuno anche il pagano ha iscritta nel proprio cuore per cui c'è un'esagerazione di coloro che tutti sono salvi anche chi non crede anche chi non fa nulla poi c'è il baianismo un errore condannato il quale diceva no tutte le opere dei pagani di coloro che non hanno la fede e non fanno parte della chiesa è tutto peccato quindi prima di Gesù c'era il male assoluto l'errore assoluto non è vero per il popolo eletto dell'antico testamento che poi ha rifiutato il messia il popolo una volta eletto che poi invece è diventato riprovato perché ha messo in croce il messia e i pagani che non avevano ricevuto la rivelazione dell'antico testamento però con la ragione potevano risalire dalle creature al creatore e con la buona volontà aiutata alla grazia di Dio si sforzavano di vivere rettamente osservando la legge naturale chiarissimo sì certo senta allora adesso siamo arrivati al capitolo successivo coloro che sono fuori dalla chiesa qui al 224 ci sono quelli che non appartengono alla comunione dei santi non appartengono alla comunione dei santi nell'altra vita i dannati ed in questa coloro che si trovano fuori dalla vera chiesa ci sono quelli che si trovano fuori dalla vera chiesa al 225 si trovano fuori dalla vera chiesa gli infedeli gli ebrei gli eretici gli apostati gli scismatici e gli scommunicati ci sono al 226 ci sono gli infedeli gli infedeli sono quelli che non hanno il battesimo e non credono in Gesù Cristo sia perché credono e adorano farsi divinità come idolatri sia perché pur ammettendo l'unico vero Dio non credono in Cristo Messia né come venuto nella persona di Gesù Cristo né come venturo tali sono i maunitani ed altri i somiglianti va bene possiamo al 227 chi sono gli ebrei gli ebrei sono quelli che professano la legge di Mosè non hanno ricevuto il battesimo e non credono in Gesù Cristo chi sono gli eretici 228 gli eretici sono i battezzati che ricusano con pertinacia di credere qualche verità rivelata da Dio e insegnata come di fede dalla chiesa dalla chiesa cattolica per esempio gli ariani i nestoriani e le varie sette protestanti direi che qui c'è così tanta carne al fuoco allora io la spezzerei in due parti questa volta le prime due domande 24 e 25 sono un'introduzione generale e poi la prossima volta vediamo in specie tutte le altre domande che sono un vero e proprio trattato di teologia allora 226 chi sono quelli che non appartengono alla comunione dei santi nell'altra vita i dannati un dannato non si può pregare per una persona che è dannata io non so con precisione chi sia dannato chi no per Giuda lì i padri della chiesa interpretano il Vangelo sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai nato come sentenza di dannazione quindi meglio il nulla non essere mai nato che la dannazione peggio del nulla che cosa c'è solo l'inferno quindi i padri reputano comunemente che Giuda si sia dannato io non posso pregare per il diavolo sono assolutamente certo che il diavolo è dannato chi è che non fa parte alla comunione dei santi i dannati il diavolo è dannato questo è certo quindi non si può pregare per il diavolo ci sono delle dottrine origine e l'apoketastasi che poi sono rispolverate costantemente anche i diavoli si convertiranno anche i dannati si convertiranno quindi l'inferno c'è però se c'è è semivuoto e anche i diavoli si convertiranno usciranno dall'inferno e entreranno in paradiso questo no purtroppo l'inferno eterno non fa comodo a nessuno neanche a me perché ci potrei andare anche io speriamo di no però chi sta all'inferno non ne esce più per cui non si può pregare per le anime dannate e per i diavoli in questa vita non appartengono alla comunione dei santi coloro che stanno fuori della chiesa colui che sta fuori della chiesa e vedremo adesso chi non riceve benefici della chiesa allora chi è che si trova fuori della chiesa gli infedeli coloro che non hanno la fede gli ebrei che hanno una fede deviata perché hanno ricevuto la rivelazione nell'antico testamento però poi hanno rinnegato questa rivelazione avendo rinnegato il messia quindi la loro fede è una fede deviata per quello si chiama perfidi non per dispregiativo perfidemo una fede errata erronea perché nega la trinità e la divinità di Gesù gli eretici un eretico formale ebbene questo non è solo un peccatore che ha perso la grazia santificante ma fa parte ancora del corpo della chiesa l'eretico lascia anche il corpo della chiesa se io aderisco alla setta dei protestanti lascio il corpo della chiesa l'apostata è ancora più grave perché non nega solo un dogma due tre dogmi ma rinnega completamente la fede allora ecco che colui dal cristiano si fa marxista nega l'esistenza dell'anima a Dio questo è un'apostata lo scismatico oggi va molto di moda purtroppo dei cattolici anche tradizionali hanno un amore disordinato erroneo gravemente colpo per lo scismo ortodosso no è uno scisma non è lo scisma che possa salvarci se i pastori dal concilio Vaticano secondo in poi aderiscono al modernismo predica al modernismo scandalizzano le anime non si ripara un male con un altro male se non si mette una pezza che è peggiore del buco e certamente quando incitano allo scisma per riparare gli errori dei modernisti questo non può essere assolutamente accettato quelli che incitano allo scisma sono normalmente i massoni i massoni vogliono che si esca fuori della chiesa gli scomunicati quando uno ha ricevuto una scomunica comunica giusta non come Giovanna d'Arco o come Monsignor Lefebvre allora questo qui è separato la chiesa buon aiuti questi che furono scomunicati Romolo Murri Fogazzaro furono scomunicati a San Pio X perché erano formalmente modernisti aderivano il Papa li riprese cercò di mostrare la gravità del loro errore hanno insistito e quindi sono stati scomunicati allora per adesso ci fermiamo qui la prossima volta prossimo mercoledì vedremo 226 chi sono gli infedeli adesso in maniera specifica vede è bello il catechismo perché prima lo introduce due domandine lo fa vedere in genere si vede tutta la foresta adesso cominciamo a vedere albero per albero chi sono gli infedeli chi sono gli ebrei chi sono gli eretici chi sono gli apostaci eccetera eccetera benissimo sì di fatti è bellissimo è chiarissimo allora finiamo qui e ripartiamo riprendiamo questi punti dal 226 la prossima tra due mercoledì giusto? sì benissimo allora Don Cuccio che ci dia la sua benedizione a conclusione di questo di questo di questa parte del catechismo per 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 salutarci ecco in nome dei padri figli del spirito santi amen benedizio dei mani potenti spadri figli del spirito santi descendo super boss man e sempre amen alla prossima allora Don Cuccio ci vediamo la prossima buona giornata